21 febbraio 1852 muore a mosca nicolai vasilievich gogol nato nel 1809 è fra i grandi maestri del realismo russo tratto distintivo è la forte vena satirica e la capacità di raffigurare la mediocrità umana forzandola in situazioni comico grottesche fra le sue opere più conosciute anime morte il cappotto i racconti di pietro burgo taras bulba